La moto di Valentino Rossi Costruisci anche tu la moto di Valentino Rossi Valentino Rossi è l'uomo del momento. Il suo recupero lampo dalla frattura di tibia e perone ne aumenta la dimensione eroica ed oggi, ognuno di noi potrà avere con sé la moto che ha utilizzato nel campionato 2016 di MotoGP. Come? È facile. Potete acquistare ogni componente della Yamaha IDRAM e uno di Valentino Rossi in edicola ed in sole 5 uscite potrete costruire una replica fedele in scala 1-4. Oltre al componente, però, ogni uscita vi regala anche un fascicolo che vi avvicinerà alla storia del dottore, ci sarà la storia di Valentino Rossi, le migliori fotografie dei suoi 14 anni di carriera e ovviamente un inserto per spiegare come costruire il tuo modello in scala. Il modello si caratterizza per l'elevato grado di dettaglio di ogni suo elemento, sia per la carenatura che per le componenti meccaniche e lo spazio occupato non è nemmeno molto. La replica della Yamaha IDRAM e uno di Valentino Rossi, infatti, occuperà solo 54 cm in lunghezza e 29,6 cm in altezza, mentre la sua larghezza è di 18 cm. . . . Mentre se l'ordine partirà dalla seconda uscita il costo sarà di soli 10.99 negazione rispetto ai 27.97 negazione. . L'anteprima del primo fascicolo è reperibile a questo link. . .